Ieri sera a Clusone incontro tra l'amministrazione comunale e i commercianti della cittadina. È stato un incontro vivace, si è parlato di tante cose, una di queste l'isola pedonale in centro storico, una proposta che però i commercianti non hanno accolto. Sì esattamente, ieri sera si è parlato di tante cose, purtroppo non si è riuscita a dare spazio anche a idee, iniziative che potranno essere invece oggetto di un prossimo incontro e discussione. L'incontro era rivolto, aveva un ordine al giorno con dei temi ben precisi perché l'intenzione dell'amministrazione è comunque di partire per quanto riguarda la zona traffico limitato, venga comunque determinata con un anticipo tale che poi per tutto l'anno non ci siano modifiche importanti e la gente appunto sappia quando ci sono le chiusure e no. In effetti, come dicevi tu, la proposta dell'amministrazione era quella di ipotizzare l'isola pedonale nel pomeriggio soprattutto dalle 16 a 19. L'isola pedonale potrebbe permettere ai negozianti pubblici esercizi di uscire sulla strada con le esposizioni, con i tavoli eccetera. Ma la grossa preoccupazione dei commercianti che ha messo il risera, diciamo, ha fondato per il momento questa ipotesi e l'ha lasciata solo nei casi in cui ci saranno delle manifestazioni particolari. Quali altri temi sono stati affrontati? Soprattutto i temi all'ordine del giorno, oltre a quello di cui abbiamo parlato in precedenza, erano le zone di carico e scarico. L'amministrazione ha proposto ai commercianti presenti l'individuazione di altre tre zone nel centro di Cusone che possono essere utilizzate nei periodi di apertura completa del traffico appunto nel centro e quattro zone di sosta per il carico e scarico nelle vicinanze delle zone chiuse, zone di traffico limitato che possono servire per i corrieri in ritardo che magari devono consegnare in questo modo possono avvicinarsi il più possibile ai negozi senza entrare in centro. Poi si è parlato del caro affitti, lo scetticismo dei presenti su cosa potesse fare l'amministrazione è stato spiegato dal sottoscritto, sostenendo che è nostra intenzione come amministrazione fare una lettera aperta ai proprietari di immobili commerciali in cui questi siano invitati a concorrere a sostenere il momento difficile per l'economia del centro storico di Cusone e ribadendo che se il centro storico vive bene anche il valore immobiliare rimane alto. E poi c'è un'ipotesi nel caso in cui ci fossero delle controversie fra locatario e locatore di individuare una figura che potrebbe essere anche l'assessore al commercio ipoteticamente invitato a fare da moderatore per eventuali controversi o difficoltà che nascessero fra i due.